Musica Quello che sta per concludersi è un anno speciale per ENAC. L'ente nazionale per l'aviazione civile, infatti, ha compiuto 25 anni, ma il 2022 è anche l'anno della ripresa nel post-pandemia. Alcuni aeroporti registrano già volumi di traffico passeggeri superiori al 2019 e il 2023 vedrà poi sviluppi importanti per il piano nazionale aeroporti. A Vionius ha parlato di questi temi con il presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma, che ha fatto il punto sul suo mandato, iniziato un anno fa, e sulle prospettive future dell'ente. Io credo che in quest'anno e mezzo noi, con la squadra che ho trovato e quindi rivitalizzato, abbiamo raggiunto degli obiettivi molto importanti. In definitiva abbiamo lanciato una nuova idea di trasporto aereo, evidentemente rilancia sul comparto aerospaziale. Questo secondo me è stato particolarmente importante, così come la valorizzazione dei piccoli aeroporti è un presidio autorevole e importante nell'ambito del trasporto aereo tradizionale. Di recente lei è stato a Catania, dove ha incontrato il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, e ci vuole parlare delle criticità e soprattutto delle opportunità del sistema aeroportuale isolano? Io credo che l'incontro con Renato Schifani, presidente della regione sicilia, sia stato particolarmente importante, anche in relazione al fatto della modifica della carta costituzionale dell'articolo 119, che riconosce all'insolarità, evidentemente, una situazione di disagio che deve essere colmata con interventi di carattere statale. Credo che la mobilità aerea per le isole sia l'elemento più importante, perché effettivamente il cittadino dell'isola siciliano, ma anche sardo, raggiunge il continente esclusivamente o sicuramente per lo più con il mezzo aereo. E quindi un intervento di questo tipo, un dialogo col presidente Schifani, per ricollocare al centro dell'attenzione anche politica regionale la mobilità aerea, credo che sia stato di particolare interesse. La Cina riapre a gennaio 2023 le frontiere ai voli internazionali ed è allarme nel mondo per una nuova ondata di contagi da Covid-19. Quali misure di prevenzione mette in campo Enac? Noi siamo intervenuti immediatamente all'esito dell'ordinanza del Ministro della Salute, abbiamo rimesso in piedi un sistema già collaudato, che quindi ha risposto immediatamente e vanno ringraziate anche le società di gestione per questo, ricordando che comunque c'è un tetto di 20 euro al prezzo del tampone Covid e credo che questa sia stata una misura utile, così come è utile, e ricordare anche della esigenza di controllare i voli indiretti, quindi perché noi dalla Cina arriva solo Malpenza e Fiumicino, ma evidentemente ci possono essere tanti altri passeggeri che arrivano in altri aeroporti. Alcuni scali registrano volumi di traffico passeggeri superiori al 2019, altri sono lontani da queste performance. E a che punto è la ripresa post-Covid in Italia? La ripresa è stata importante ed effettivamente, specialmente negli aeroporti delle isole, si sono superati i numeri del 2019, quindi significa che in definitiva la politica che abbiamo adottato in questi anni del Covid, che ha garantito in qualche modo il presidio aeroportuale, è qualcosa che ha dato poi dei risultati. In definitiva l'Italia, a differenza dei paesi nord-europei, è stato il paese in cui il sistema aeroportuale ha tenuto, nonostante le difficoltà, per quegli interventi di carattere governativo che hanno mantenuto la fidelizzazione dei lavoratori. E questo ci ha aiutato in una ripartenza sicuramente importante. Senta, facciamo un bilancio di fine anno. Com'è stato il 2022 per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale italiano ed europeo? Il tema del 2022 è il tema del post-Covid, quindi a partire dalla primavera del 2022 si assiste a una ripartenza della mobilità aerea e si riprendono i trend che erano previsti, quindi sostanzialmente si prevede nei prossimi 20 anni il raddoppio dei passeggeri laddove non ci siano altre situazioni anomale. Sicuramente la ripartenza è penalizzata ancora dalla guerra che c'è purtroppo in Europa, dal problema dei collegamenti in particolare con la Cina, però nello stesso tempo si vede che c'è un fermento importante e sicuramente il fatto che questo accada e sicuramente le ricadute economiche garantiscono la ripresa di un settore fortemente penalizzato ci dà l'idea che chiaramente è un percorso sicuramente utile, quello che noi raccontiamo anche nella proposta del Piano Nazionale Aeroporti. Parliamo di continuità territoriale, diverse regioni chiedono soluzioni più efficaci per uscire dall'isolamento grazie ai servizi di trasporto aereo, tra queste la Sardegna. Cosa si può fare secondo lei? Noi siamo molto vicini a questo problema sia della Sicilia che della Sardegna, crediamo che si possano anche superare gli oneri di servizio pubblico con ulteriori interventi di carattere pubblicistico, penso in particolare agli aiuti e ai vettori che possono essere declinati in modo diverso, c'è sicuramente la possibilità di rivitalizzare quelli che erano stati anche gli interventi economici dello Stato per abbattere i costi di questa mobilità. C'è effettivamente in questa finanziaria qualcosa di importante, due capitoli, seppure non particolarmente importanti da un punto di vista economico, da un punto di vista politico sì, dove si riconosce all'insularità elementi di carattere premiale. Quali sono le prospettive di sviluppo degli aeroporti minori in Italia? Gli aeroporti minori sicuramente sono importanti, nel senso che nel piano nazionale degli aeroporti noi sostanzialmente riteniamo che il sistema aeroportuale italiano debba essere sintetizzato in 13 reti aeroportuali in cui evidentemente si difendono le infrastrutture come riserva di capacità e quindi già i piccoli aeroporti hanno oggi sicuramente un'importanza che prima probabilmente non avevano. Ci sono poi ancora gli aeroporti di aviazione generale che sono stati trasferiti da ENAC nell'ambito della propria in-house e c'è un percorso di valorizzazione che vuol fare in particolare dell'URBE un hub di aviazione generale da cui poi si potrà anche decollare con un drone per arrivare al fiumicino. La bozza del piano nazionale aeroporti prevede la costruzione di verti porti da cui potranno decollare ed atterrare i futuri taxi volanti. Non mancano però voci critiche su questo modello di mobilità definito costoso, invasivo, per pochi ricchi, irrealizzabile. E cosa si sente di dire in proposito? Ma io negli interventi pubblici racconto la similitudine che c'è tra effettivamente la mobilità con i droni e quello che è stato nel passato il tema dei telefonini. Anche i telefonini sono stati accolti da uno scetticismo anche di carattere ideologico e però oggi è un'abitudine quotidiana che evidentemente tutti ritengono di utilizzare perché agevola sicuramente la modalità in cui si convive all'interno del nostro sistema. La stessa cosa credo che accadrà con i droni. È evidente che la partenza ha sempre un momento di difficoltà, anche di scetticismo, ma l'innovazione tecnologica evidentemente premierà questo percorso. Cosa si sta facendo in Italia per sostenere lo sviluppo del settore aerospazio che prende sempre più piede in altri paesi e continenti dove si moltiplicano gli spazioporti come per esempio quello di Grottaglie? Noi sicuramente pensiamo che il futuribile del trasporto aereo debba essere particolarmente attenzionato da ENAC soprattutto da un punto di vista di regolamentazione e quindi noi già in consensi internazionali abbiamo presentato la regolamentazione della realizzazione infrastrutturale di uno spazioporto a Grottaglie e stiamo lavorando sulla capacità operativa e quindi di collegamento dello spazioporto di Grottaglie con altri scali evidentemente che sono dislocati nel mondo per creare un nuovo network di quello che sarà il trasporto aereo del futuro. Parliamo di compagnie aeree italiane. Quali sono le prospettive, anche alla luce della cessione della compagnia di bandiera ITA alla tedesca Lufthansa? Per ENAC l'intervento statale su ITA è stato un atto di indirizzo e noi abbiamo sempre difeso questo percorso c'è oggi in ITA sicuramente un'energia che probabilmente non si riscontrava da tempo crediamo effettivamente che l'alleanza con un'altra compagnia che garantisce evidentemente un network più importante possa essere una soluzione idonea ad avere effettivamente un riferimento nazionale di compagnia aerea che evidentemente potrà migliorare anche i collegamenti del network nazionale. Cosa si augura infine per il nuovo anno? Per l'anno nuovo mi auguro per l'ENAC evidentemente una continuità rispetto ai percorsi che abbiamo già avviato e sicuramente credo che l'idea sia quella di attenzionare al meglio la sicurezza del trasporto aereo con particolare tutela dei diritti dei passeggeri e noi ci muoviamo con particolare attenzione a quello che è il PRM quindi i passeggeri a ridotta mobilità per noi sono sicuramente l'emblema di un qualche cosa che l'ENAC segue con attenzione e chiaramente dà l'idea di che cosa può essere l'ENAC nella difesa dell'interesse pubblico all'interno di un settore privatizzato e liberalizzato. Grazie a tutti.